Sei un fan di Warhammer 40.000? Allora Space Ark The Tanger qui davanti potrebbe essere il gioco perfetto per te. Un gioco di carte che porta i temibili Space Marine contro orde di Gene Stealer. Questo è un gioco operativo, da 1 a 6 giocatori, che impersonano di Terminator Space Marine dei Blood Angels. La missione? Sopravvivere a ondate di Gene Stealer in un'astronave abbandonata. In ogni turno i giocatori scegliono azioni come attaccare, difendersi o muoversi in formazione. Ed è fondamentale pianificare in anticipo perché i Gene Stealer sono imprevedibili e aumentano di numero rapidamente. Le carte evento aggiungono suspense e imprevisti, prendendo ogni partita diversa e ogni decisione cruciale. The Tanger è famoso per la sua difficoltà. È una sfida intensa dove basta realmente un errore per perdere tutta la partita. Perfetto perché cerca partite brevi e impegnative. In breve Space Marine The Tanger è un'avventura tese e brutale, ideale per gli amanti di Warhammer e i giochi cooperativi. Sarai in grado di sopravvivere all'assalto? For the Emperor!